Sapete ragazzi cos'è un Perfect Timings? Semplicemente quando deve capitare una cosa E accade Arrivano starnuto E allora ciurma, oggi vedremo appunto una compilation di Gamer's React Shock Su i Perfect Timings Quindi 3D1 Deltaplani Spal... No vabbè, questa ormai è vecchia Possiamo cambiare il repertorio ormai di battute E pronti! Questo Timings è perfetto, ok Ma che c'è sotto? Oddio! Oddio! Questo è ancora più perfetto Ok Cosa? Questo è insane proprio Oddio Oddio E ora? Non ci credo Cioè si è messo ragazzi a piovere E si è salvato proprio il sedere Fatto sta, potete mandare anche le mie clip ragazzi A Gamer's React E vediamo se finiremo in futuro in un prossimo video Eccoci qua Ok Ma che modalità è? Perché è così? Però GG, GG Lascio un Creeper Ok Oh mio Dio Sì ma qua ti prende l'infarto Ok Oh, uno qua dentro gli mette il Creeper Scappa Boom Ma? No! Non ci credo Gli infidi il Creeper addosso Incredibile Era pure il suo Creeper Ok Ok Ma c'era il Il mob spune Bro, bro, bro Ma c'è Ma c'è un nodo diretto C'è un nodo diretto Che che In basso a destra Players Dice Vabbè Vabbè Va così Raga Immaginate Emerald in un Hardcore 5000 like E la facciamo Ma non funziona Non gli cresce Cioè Non cresce Sì ma Non colbo un Miel Non cresce colbo un Miel Ok Ha detto Diamanti per favore Ma trovo i diamanti Ecco GG GG Ok Allora Se muoio La streaming finisce Ok Ora muore Lava Eccoci Due cuori No Oh mio dio Lo scheletro Ragazzi Lo scheletro Cioè lui si è salvato Colpo di scheletro Che lo lascia un cuore Nella lava Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Ok Oh Non ci credo No E ha vinto a culo No vabbè No E ha vinto a culo No vabbè Che cos'è quella cosa Una tartaruga Ma 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 L'ha ucciso un procione Ragazzi Veramente Io 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 non ho parole Ok Guarda Guarda Piano L'Henderman va Si arrabbia Si tippa E l'Henderman Lo killa No invece no È vivo Che fortuna Che fortuna E invece no Bel jump Guarda Guarda No Mancava veramente Pochissimo Ok Scava Morto No Raga Oh Cioè Gli ha troppa di diamanti A River Creeper No Sono miei Boom Ma che Ok Quindi Il game Cioè Il gioco Gli si è frizzato Lol Lol Perfetto GG GG Cosa Oddio Ma che cosa Ma che cosa Non l'ho capito Allora Allora Ragazzi Io ho sempre Avuto questa teoria Se voi Se voi Seguite Un coniglio Su minecraft Prima o poi Non ci sarà più il coniglio Fidatevi Provateci Va sempre così Non so per quale motivo Ok Cioè guarda Lui proprio Guarda 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 proprio Piano 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 Mo'y cade un creeper morto Ecco Era così Eh per forza È sempre così Vediamo Oddio l'ha salvato GG No no I ranni salgono Come se salgono L'abbiamo scoperto L'abbiamo scoperto Ragazzi Nelle live Sul sito viola Ok Boni Boni Guarda Lui tranquillo Proprio Ups così Rip Ma io non capisco Veramente Oh Oddio 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 Oh Pazzo Pazzo È un ninja Ha pure vinto Non ha vinto Però lì ha fatto Una giocata assurda Ma proprio assurda Qua diamante Ho detto Qua diamanti Eccolo Eccolo Ecco Ecco Per fuori Nessun creeper Minchia l'ha chiamato Regà Ecco Creeper Regà Ha perso almeno Cinque anni di vita Ma questo qui Usa la mano sinistra Per giocare Per giocare su minecraft Oh Oh my god Ok siamo dentro un bastione Perfetto Oh mio dio L'ha chiamata La chiamata prima Raga Scriptato Scriptato Oh Mamma mia Raga Questa è la migliore clip Del video Vediamola Ok 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 Non ci credo Non ci credo Non ci credo Come possono capire queste cose Guarda Guarda Perfetto Oh mio dio Ma raga Ma è rottissima Come roba Non ha senso Ecco Oh mio come si è salvato Ah ok Quindi Quando lui ragazzi Schioppa Si spegne il server Oh Bellissima come roba Esploso Ma è una cosa bella Raga La facciamo anche noi La faremo anche noi Vi invito tutti quanti Su un server Se schioppa Si spegne il server Se schioppo io Il server fa croc 5 4 3 2 Oh Si è salvato a pelo Comunque ragazzi I clutch sulle badger Sono le clip più belle Guarda Oh mio dio Oh mio dio Oh Oh mio dio Oh mio dio Guarda No Peccato che è morto Peccato GG Ok dice che lui Non schioppa Ok ci sta Ma questo è morto Perfetto Ragazzi Il cosplay Di Emerald Sono io Piacere Emerald C'è assurda raga Mamma mia Questa qui È senza senso Ragazzi C'è È totalmente Baciato Dal destino Quest'era è un golem Cioè Tu lo vuoi killare Piove Piove C'è proprio Notch ha detto Lui non muore No 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 Lui non muore Pioggia Vediamo Dobbiamo stare molto attenti Cioè quindi Lui qua ha spaccato E ok Cos'è cascato Voglio vederlo Non capisco Se è un player O un mob Cioè Vediamo un attimo The next day Allora ragazzi È uno scheletro C'è uno scheletro What Ok 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 Ha letteralmente Detto La 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 Signorina della Queen 2D Sì Adesso Scivolo E Schioppo Ed è successo Ok Vediamo Oddio Quale frame rate Me lo stai dicendo No 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 Non usare lo scudo Quando piazzi i blocchi No no Ecco Eccoci 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 Perfetto Comunque Ciurma Come sempre Fatemi sapere nei commenti Quale è la vostra clip preferita Ma la mia di oggi È questa qua Ragazzi Questa clip È folle È fuori di testa Questa clip Cioè guarda che poi Prende pam E lo butta pure giù Clip Fall Fatemi sapere ragazzi La vostra nei commenti Col minutaggio Noi ci becchiamo Questa sera Alle 20 di live Mi raccomando Non mancano il link In descrizione E ciurma Del vostro capitale è tutto Ciao A tutti A domani con un nuovo video Bye 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 bye